esauriti welcome back sul canale serata topica finiamo stavolando poi vediamo un po se diciamo a fare 8 11 mi raccomando spollizzate come se non ci fosse un domani e il video non è destinato assolutamente ai bambini e andiamo e andiamo e vai a casa dai grandissimo 11 come on grandissimo dati partita a tutti perché se ne andato non ho capito 11 quindi tutto secondo i piani così è più piacevole e questa la regaliamo perché non sia un super giocchi sinceramente bella squadra tra paliente regalo regalo no 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 dove è andato qui 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 abbandona abbandona abbandono 1 va bene 11 confermatissima cosa c'è da scaricare finali completate ci prendiamo punto esperienza e quant'altro abbiamo un bel po di pic e altri simpatici piccoli premietti qualche credituccio e di nuovo i punti per fare una nuova web che però come vi ho già detto non farò mi voglio dedicare ai punti esperienza andiamo uno dei tre nazioni euro 84 più e ci prendiamo chimico e ci prendiamo dolla room ma e poi abbiamo uno dei tre otto alt in attività 4 ultimaу 94 più no no salata o regalano che schifo non farà anche sto valle erd formula, adoro a guidare con Valverde formula, diceva Eddie Irvine, tome, ci siamo no? aggiornamento negozio vedo che è rapido, 3 giocatori orari 85 più, un pacchetto alti, un pacchetto giocatori orari, ma prima apriamo questo 583 più, 3, 2, 1, Brasile, CC, oddio, Brunello, Gimeraes, 8, pacchetto ultimate per KW, questo è scambiabile, doppio walkout è arrivato anche KW 87, che sono entrambi scambiabili che abbiamo già due a finire di sopra, questi qua hanno aumentato il prezzo 34 quindi lo vendiamo, ci facciamo anche 10k quasi 11, apriamo questo 12 dai dai merda cici ma che schifo ohio dai un po' me è questo però ha 3kp, ci ripetiamo a casa, visto che ora siamo poverissimi finchè non venderò saliva e questo è speciale ed è scambiabile ed è saliva non lo vado non lo vado doppio walkout mica sto cazzo chi ci fette della Giorgio che oggi è appena partito codicare come non lo vado i no in Grazie a tutti.